Ucciso con più colpi d'arma da fuoco in strada, con quello che si profila come un agguato, è successo ieri notte, poco dopo le 23, a Fonni. La vittima si chiamava Giovanni Mureddu, autotrasportatore di 49 anni. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida della sua auto, una Fiat 16, quando è stato raggiunto da un colpo di fucile all'incrocio tra via Brigata Sassari e via Rossini. Ferito, Mureddu è uscito dalla vettura e ha tentato la via della fuga verso uno stabile di sua disponibilità, ma che parebbe non essere stata la sua abitazione, ma è stato inutile. Dopo aver percorso pochi metri è stato raggiunto e freddato da numerosi colpi di pistola, uno dei quali alla testa. Una vera e propria esecuzione per la quale sono intervenuti sul posto gli uomini della questura di Nuoro. Il corpo della vittima si trova ora all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia dal medico legale Salvatore De Montis. Ma si cercano risposte anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'agguato. Le indagini, coordinate dal PM Ireno Satta, sono ora affidate alla squadra mobile di Nuoro. Sono in corso gli interrogatori ad alcune persone vicine a Moredu, che aveva numerosi precedenti penali, a partire dal coinvolgimento nel 2007 nella faida di Siurgus Donigala. Dopo un periodo di latitanza, l'uomo si era costituito ed era stato condannato a nove anni di reclusione per associazione a delinquere. Poi un altro arresto nel 2017 per aver commesso diversi attentati ai danni di un bed and breakfast di Fogni e dei suoi ospiti.